Ciao a tutti, io sono Patrick e sono qui alla Complex perché finalmente ho trovato la ruota che è il sogno di tutti i patinatori. La ruota che tiene e nello stesso tempo scorre, quindi ti dà la possibilità e la sicurezza di pattinare e di spingere per quanto vuoi e nello stesso tempo di riuscire a scorrere anche nelle trottole. Continuiamo con la descrizione delle ruote Complex. Diciamo che ci sono due tipi, principalmente, che sono le Angel e le Altura. Diciamo che le Angel sono quelle che sono più portate per le piste scivolose, per quelle dove c'è meno grip, dove le piste in legno, per esempio, in parquet, che hanno bisogno di una ruota un po' più morbida e che abbia veramente un gran grip. Le Altura invece sono, secondo me, più adatte a piste in cemento, dove magari grip c'è già di un'altra ruota, per esempio, in un'altra ruota, per fare una ruota di presenza. e finalmente mi sono riuscito a conto che il sogno di ogni patinatore si è avverato. In questo anno li ho provati e finalmente ho trovato il prodotto dei miei sogni e non solo dei miei sogni ma del sogno di tutti i patinatori e da quella volta ce ne ho ancora in più. Grazie per la visione! Grazie a tutti!